La questura cresce, sono stati assegnati due bravissimi funzionari di polizia, la questura di Agrigento, si uniranno alla squadra già ben assestata sul territorio di cui la questura dispone, siamo contentissimi, rivolgiamo a loro auguri di buon lavoro e di impegno sul territorio così come dimostrano le loro carriere e il loro curriculum. Lo spirito è alto, io vengo da un commissariato, il commissario di Piazza Merino, di Lugia di Enna dove ho sicuramente avuto una bellissima esperienza professionale e umana. L'Icate è una bella strada complessa, un territorio complesso, ma per questo motivo sono ancora più motivato quindi lo spirito è molto alto. Sì, mi sono stato assegnato per questo virocino di sei mesi alla questura di Agrigento, provengo dalla scuola studio di polizia in sede a Roma, ho frequentato il 107esimo corso per la formazione dei commissari della Polizia di Stato e quindi nell'attesa di maturare questa esperienza per conoscere un po' tutte le articolazioni della nostra questura, la polizia, quindi poi sarò assegnato al signor questore per la sede che chiaramente mi seguirà fino a quando l'avvistazione risposta diversamente.